Ospiti quest'oggi nei nostri studi, Cristiano Ceselli e Divane Capeci, con loro parleremo dell'imminente colletta alimentare che anche in questo 2022 si terrà sabato 26 novembre, con alcune novità rispetto alle precedenti edizioni, quanto c'erano ancora alcuni vincoli per il post-Covid. Allora Cristiano, quest'anno a Tolentino la colletta coinvolgerà tutti i ragazzi delle scuole, dell'ITE e del liceo Filelfo? Sì, innanzitutto diciamo questo, che quest'anno ricorre l'anniversario, i 25 anni dell'inizio di questa iniziativa e noi possiamo dire che Tolentino c'è, perché noi fin dagli albori, dall'inizio di questa grande opera di carità, abbiamo aderito come centro di solidarietà, quindi quest'anno festeggiamo a pieno titolo. Detto questo, diciamo la precedenza in quest'opera la diamo come sempre ai giovani, ai ragazzi e poi anche a tutti quanti quelli che vogliono adoperarsi in questa opera, in questa esperienza di carità. Principalmente quindi, come giustamente dicevi tu Chiara, al mattino si alterneranno i ragazzi del liceo e dell'ITE e nel pomeriggio si alterneranno i ragazzi del catechismo, quindi nelle varie parrocchie delle due unità pastorali che abbiamo qui a Tolentino, unità pastorali 10 e 9. Quindi proprio una presenza di popolo, Tolentino c'è. E sarà possibile aderire a questa iniziativa in ben 9 supermercati della nostra città? Sì, con questo copriamo da parte di Tolentino Est, quindi tutta la zona giù, Conad, Lidl e Eurospin, per poi passare all'Oasi, per poi passare al centro, sul Despa, i vari siccontè di Viali Benaduci, via di Brodolini, per arrivare poi a Tolentino Ovest con la coal di Piazza Peramezza. Quindi, come da sempre, e ringrazio già fin d'ora, la disponibilità non scontata dei vari responsabili dei supermercati, perché sono sempre attenti a questa iniziativa, non solo accogliendoci per svolgere quest'opera, ma in molti casi anche per le donazioni che loro stessi fanno, quindi anche loro si rendono partecipi di questa grande opera. Un'altra novità di questa edizione è il colore che contraddistingue questa colletta, non più il giallo ma l'arancione. Esatto, quest'anno ci vedrete davanti ai supermercati non con la casacca gialla ma con la casacca arancione. Grandi numeri quelli della precedente edizione, sia a livello nazionale ma anche nella nostra provincia. Sì, a livello nazionale abbiamo raccolto 70.000 tonnellate, 11.000 punti vendita hanno aderito, 140.000 volontari e 4.800.000 italiani hanno donato del cibo. Nella provincia di Macerata abbiamo raccolto più di 40.000 kg, con una presenza di più di 1.000 volontari. Vogliamo ricordare come sempre che cosa è possibile donare? È possibile donare verdure in scatola, carne in scatola, tonno, polpa o passata di pomodoro, olio e alimenti per l'infanzia. Ivan, tu sei il responsabile per quanto riguarda la provincia di Macerata di questa colletta alimentare. C'è sempre bisogno di raccogliere tutto ciò per donare agli altri, quindi un piccolo gesto che può essere però di grande ausilio per molti. Sì, quest'anno ancora di più. Il Covid ci ha dimostrato che non si sa mai chi è che ha bisogno o potrei essere io domani. Quindi questo gesto di solidarietà che, come ripetiamo sempre, il nostro motto è condividere il bisogno per condividere il senso della vita. Oggi diventa ancora più vero e ci rendiamo conto che interroga tutti, tutti. Un'altra cosa importante, è chiara che magari ci tengo poi anche a precisare, che questa espressione corale è un'espressione per tolentino e su tolentino. Perché anche qui noi, con quest'opera, sosteniamo diverse realtà, quindi famiglie e anche centri che hanno necessità, che vivono di carità appunto. Insieme, per chi è in difficoltà.